ciao ragazzi bentornati in un nuovissimo video di gembe questo video è particolare è diverso dal solito di solito io faccio tipo recensioni faccio tutorial faccio consigli faccio qualsiasi tipo di cosa questo video è un esperimento può funzionare può non funzionare secondo me non funzionerà dimostratemi il contrario in cosa consiste questo video consiste nel raggiungere un certo numero di visualizzazioni punto quello è il suo obiettivo di conseguenza le visualizzazioni ovviamente ci saranno anche gli iscritti suppongo almeno in base al mio ragionamento questo video in particolare consiste nel chiedervi di condividere il video con chiunque in modo tale che questo stesso video raggiunga 100.000 visualizzazioni e almeno mille iscritti almeno l'obiettivo appunto è quello di farmi attivare la monetizzazione non tanto per un modo egoistico perché ovviamente non sono i soldi che muovono il futuro diciamo che non fanno schifo ma voi mi chiederete cosa ci guadagno in cambio la risposta è molto molto semplice la mia intenzione è quella di fare dei video comunque abbastanza in modo continuativo non smettere quindi una volta che raggiungerò i mille iscritti e in questo caso in questo video le 100.000 visualizzazioni potrò infare in modo appunto di attivare la monetizzazione di guadagnare dei soldi e una volta che guadagno i soldi ho pensato che se questo video appunto raggiunge l'obiettivo che mi sono prefissato che avete letto anche nel titolo donerò tutti i primi tre mesi di monetizzazione a voi ovviamente in base a una sorta di contest quindi uno di voi vincerà un mese uno di voi vincerà il secondo mese uno di voi vincerà il terzo mese tutto ciò però deve succedere in modo tale che io riesca attivare la monetizzazione il contest appunto consiste nel darvi tre mesi di monetizzazione quindi nel momento in cui io raggiungerò i 1000 iscritti continuate a guardare i video perché ragazzi più guardate più guadagnate mi sembra chiaro cioè mi sembra molto reciproca come come molto molto win win come come cosa no poi magari se funziona potrei fare anche dopo il quarto dopo il quinto dopo ciò sarebbe figo effettivamente ci sarebbe tipo una cosa alla mister beast italiano una roba del genere però non funziona così mister beast ovviamente funziona in maniera leggermente diversa però l'idea di base è quella c'è dare soldi alla persona così le persone poi ti guardano così la persone poi la porti un casino assurdo però comunque funziona in questo modo quindi non ci sta se non sarebbe brutto a me diverte quindi potrei anche provare se funziona non funzionerà ma se funziona ma se funziona comunque quindi è inutile anche ricordarvi di iscrivervi di commentare facendomi sapere se questa cosa può essere una cosa sensata di mettere mi piace o non mi piace perché magari questo video qua non so neanche come andrà magari avrà una visualizzazione magari ne avrà due magari ne avrà centomila quindi niente il video è finito qui spero di vederci in un prossimo video nel quale vi dirò avete fatto bene e niente noi ci vediamo appunto nel prossimo video ciao sicuramente non lo guarderà nessuno c'è sarà una perdita di tempo incredibile però se lo guardate mi fate molto contento